Il report annuale dell'Ispettorato del Lavoro boccia le aziende sannite. 3 su 4, in seguito a controlli, sono risultati irregolari. Una percentuale altissima. Su 1.301 ben 900 avevano qualcosa da farsi perdonare. Dei 1.371 lavoratori verificati, 927, pari al 67%, hanno portato a sanzioni alle aziende. Sono state contestate inoltre interposizione di manodopera, appalti ottenuti illecitamente in 15 casi e mancato rispetto degli orari di lavoro in 44 casi. Il fenomeno più ampio rilevato è quello dell'utilizzo di manodopera in nero. L'Ispettorato ha scoperto 346 operai totalmente privi di contributi, principalmente nel comparto edile, a seguire le collaborazioni stagionali in agricoltura. Le sanzioni erogate nel 2017 hanno fatto recuperare all'erario 1.700.000 euro, mentre sono stati avviati al recupero 2.700.000 euro di contributi.